Ehi, ho preparato questo piatto nuovo, l'ho visto da Benedetta, mangiate? Beh, sembra buono, eh. Beh, com'è? Sangu, fammelo mangiare. A te ti piace? Non l'ho neanche assaggiato. No, no, vabbè, io sto tirando così, per sapere, mica per niente. Beh, com'è? Così lo dico a Benedetta. Oh, buono, buono. Sì, si brucia, che m'ho uscito dal forno. Beh, è buono, com'è? Dimmi com'è, è buono. Aspetta, ma che fai? Non si risponde. A te ti sta piacendo? Ho capito che brucia, aspetto che si raffredda, no? Mangia, sì, poi quando non vogli si raffredda, dimmi com'è, è buono o no? Beh, è buono? Sì, sì, è buono, sì. E perché stai bevendo l'acqua? Com'è perché gli stai bevendo l'acqua? C'è il pazzo secco? Mi stanno odio, muove in fuoco, poi è rimasto, posso bere? Tu non ti permette di bere che ti scanno, eh? Bravi, bravi, se te vedi sei d'accordo, no? Non vi farò mai più un piatto di Benedetta. E tu da domani va a mangiare tua mamma, ha capito? Tu e tuo figlio da domani va a mangiare tua mamma, va bene? Eh, ti ha sposto pure la cosa, va bene? La prossima volta andiamo a mangiare una cotoletta, eh? Mannaghermo i arti Benedetta.